Il 17, forse anche prima dalle notizie ultime che ho, che verrà riaperta la strada perché scade l'ordinanza e quindi era un impegno preso anche con l'associazione di categorie di riaprire la strada nella sua completa funzionalità. I lavori adesso finalmente proseguono spediti e si concluderanno entro la data prevista nel cronoprogramma che tra l'altro coincide con la partenza della città del Natale. Entro quella data via Fiorentina sarà così riaperta. So che finita questo tipo di lavorazione verrà ripristinata la pavimentazione e quindi riaperta la strada. Il cantiere si era aperto tra le lamentele dei residenti e negozianti che in più occasioni avevano segnalato di sentirsi tagliati fuori dalla città. I banchi piene di roba, lavori con questa gente che ti viene a piedi ma meno della metà delle persone. Il pane una volta fatta a fine giornata ve le buttate. Esatto, non è roba che puoi rivendere il giorno dopo. Se una lumaca vuole attraversare da marciapiede a marciapiede lo può fare tranquillamente e non rischia nulla. E dentro i negozi come vede non c'è assolutamente folla. Ad accendere poi ancora più le polemiche alcuni giorni di stand by dovuti al maltempo e al mancato arrivo di una perforatrice adesso arrivata e già in funzione. Commercianti e associazioni di categoria avevano così richiesto ristori per i danni economici subiti tra le ipotesi avanzate anche quella della sospensione dell'Atari. Un po' di disastro c'è stato però è chiaro che per risolvere problematiche che hanno un interesse comune bisogna anche fare ognuno di noi qualche piccolo sacrificio. Non lo so se questo è stato un piccolo o un grande sacrificio. Quello dell'impegno che ci si era dato era quando abbiamo visto l'associazione di categoria era quella comunque di realizzare, di vedere se c'era la possibilità di realizzare comunque uno sfogo e quindi una transitabilità anche durante i lavori e questa c'è stata perché comunque la svolta a destra è stata garantita. E poi di terminare i lavori, come mi ribadisco, entro i termini previsti dall'ordinanza. Poi se questo costituisce un elemento per comunque chiedere un ristoro dell'Atari, ecco, però io non ho la mia competenza, c'è l'assessore Merelli, andrà a fare un'istanza ufficiale.